Mantenete la vostra casa pulita senza fatica, grazie all'aspirapolvere senza sacco Inventor EPIC. Grazie alla sua intelligente tecnologia, Six Cyclone e Polycyclonic renderà la pulizia dei tappeti e dei pavimenti duri più leggera. Lavorano insieme per intrappolare anche le particelle di polvere più piccole, prima che vengano fatte girare ad alta velocità per separarle dall'aria. Vengono poi raccolte in un contenitore da 3 litri, che può essere svuotato con un semplice clic. Il filtro HEPA di questo modello è una gradita aggiunta per chi soffre di allergie, dal momento che rimuove il 99,9% degli allergeni, il che significa che solo l'aria fresca e filtrata viene espulsa nuovamente nella stanza. E con il suo lungo cavo si ottiene un raggio di pulizia di 8 metri, il che significa che non sarà necessario continuare a fermarsi per staccare la spina. Per ottenere le massime prestazioni di pulizia ci sono diversi pratici accessori per la pulizia di scale, tappezzeria e peli di animali domestici. Se siete alla ricerca di un aspirapolvere che sia facile da usare e che offra prestazioni potenti su tutti i tipi di pavimento, l'aspirapolvere senza sacco Inventore Epic è la scelta perfetta!